Ho vinto che se è stata fatta questa scelta è perché si avevano le indicazioni giuste e non si è andato a casaccio, assolutamente. Anteo Salvini non è una persona che fa cose non pensate e non meditate. Se devo fare un ragionamento positivo, penso che l'endorsement da parte di Sinisa Mijailovic...